cari fratelli e care sorelle di padre pio tv il signore vi dia pace oggi in questo giorno la chiesa ricorda grazie alla figura di san francesco d'assisi l'impressione delle sacre stimmate è un grande dono per la chiesa intera perché francesco ha deciso di fare veramente sul serio dal momento in cui ha cominciato un cammino reale e autentico di conversione si è posto ha messo la propria vita sotto la custodia del vescovo guido che in assisi lo accoglie con quella figliolanza e con quella paternità che solo nei santi si può scoprire dall'inizio questa profezia gli permette di accogliere questo figlio povero della pianta del cristianesimo sotto la sua custodia e padre pio come degno figlio di san francesco ha a cuore anche la sua vita non soltanto la sua ma nella penna e nello scritto che lascia sui figli spirituali fa fare questo cammino spirituale a ciascuno di noi metterci sotto la custodia di dio sotto la custodia della chiesa che raccoglie queste due indicazioni che oggi il padre ci offre che padre pio ci consegna come cammino spirituale per questa santa giornata che vogliamo vivere ricordalo ci dice padre pio è più vicino a dio il malfattore che ha vergogna di operare il male che l'uomo onesto il quale riuscisce di operare il bene è più vicino al signore quella persona che si pone davanti al tabernacolo davanti alla persona di cristo e che confessa il proprio peccato a volte anche messo in luce dagli altri è più vicino questa persona che piuttosto uno che si definisce davvero un cristiano un cattolico per bene che non compie le opere di bontà non è tanto un'opera di bontà come dire la misericordia o la carità le offerte quanto la disponibilità a realizzare quella chiave di lettura che la meraviglia del vangelo il perdonare i fratelli perché quello che conta oggi nella scrittura è essere un corpo solo all'interno della chiesa il peccatore che ha capito chi ha di fronte a sé gesù cristo si avvicina sa che non può pretendere niente dal signore sa che ha da offrire soltanto una cosa come quella donna le sue lacrime i suoi baci il suo profumo il suo essere a terra e dio sa cogliere fino in fondo una persona di gesù questo grande desiderio e quella donna riesce a dare al signore quel tanto amore vedi simone questa donna mi ha dato tutta se stessa le sono perdonati su molti peccati per chi ha molto amato e finalmente comincia a tirar fuori tutto il bene che ha nel cuore tanti invece che si sentono per bene persone che possono dire la propria perché vivono la vita coerente non testimoniano questo amore immaginiamoci gli apostoli che quando si tratta di dire di dover dire dove affermare la propria fede nel momento di difficoltà di gesù scompaiono arrossiscono la timidezza vince la loro vita ed è bello vedere come in questo giorno appunto dell'impressione delle sacre stimmate di san francesco come francesco avesse nelle fonti francescane una visione chiara della propria vita così come ce l'aveva padre pio e ogni santo sentite dalle sue parole proprio dalle fonti francescane che cosa ci ricorda nella regola quando un frate gli domanda padre cosa ne pensi di te stesso la sua risposta nelle fonti francescane numero 707 penso di essere il più grande peccatore perché se dio avesse usata tanta misericordia con qualche scellerato sarebbe dieci volte migliore di me che onestà ed anche in un altro scritto sempre il numero 743 delle fonti francescane dice così tommaso d'accelano riteneva gran peccato non fare qualcosa di bene e giudicava un retrocedere il non progredire sempre riconosciti mio servo veramente quando pensi dici agisci saltamente per questo vi ho chiamati fratelli perché voglio arrossire davanti a voi se a volte avrò mancato in queste cose in queste tre cose arrossire davanti al bene non compiuto quante volte rinunciandolo anche nell'atto di dolore le omissioni non siamo stati capaci di fare un passo in avanti verso la nostra fede verso la nostra carità verso la nostra speranza mettendo casomai davanti a noi tante giustificazioni è il momento bene per convertirsi come fece san paolo che nel momento in cui il signore lo ha chiamato non ha più arrossito si è dato da fare si è prodigato ha speso ha consumato tutta la sua vita e alla fine come dice lo stesso ora al termine di questa corsa raccolgo il giusto premio di colui che mi ha amato e mi ha chiamato il giusto premio chi diventa rosso non raccoglie nulla pace e bene a tutti